miei cari genitori e mio caro fratello nino vi scrivo per l'ultima volta pensando tanto a voi tutti mi dispiace se vi ho fatto soffrire qualche volta o se avete sofferto tanto per me ora che credevamo di essere la famiglia è la più sfortunata ma pensate che c'è ancora nino con voi che vi vuol bene e vi vorrà bene anche per me vi aiuterà in tutte le maniere e starà sempre con voi due ne sono sicuro siate forti come lo sono io nella nostra sfortuna pensate che tutto questo sarà presto finito di guerre non se ne parlerà mai più non dovrete più lavorare tanto come avete fatto prima ma ci sarà nino che penserà a voi che volete per me è stato il destino che è voluto così soltanto il dio fa i miracoli noi siamo delle povere creature nelle sue mani e quando chiamano beh bisogna andare salutatemi tutti ne specialmente lo zio Francesco che è stato tanto buono con noi salutatemi la nonna lo zio felice mio padrino e tutti i parenti e gli amici saluti addio saluti il saluti saluti Grazie a tutti.